E no, dobbiamo ricordare, Piero, che tra qualche giorno ci aspetta una presentazione importante The Place to Be, Mondo V, fa anche rifare The Place to Be, Mondo V, esatto Perché è l'Accademia Montis Regalis Lunedì 5 dicembre, ore 19, Accademia Montis Regalis Perché Montis Regalis? Perché Mons Regalis è il nome latino di Mondo V Tant'è che la zona di Mondo V si chiama il Mon Regalese Il Mon Regalese, certo In via Francesco Gallo 5, cosa si presenta? L'almanacco di bellezza Mondo V è molto bella, io ho mangiato il più buon vitello tonnato della mia vita, Mondo V Noi lo rimangeremo Ecco, mi raccomando, ci pensi tu Vi aspettiamo molto numerosi Molto numerosi, vitello tonnato per tutti, paga Piero Sì, però vorrei aggiungere una cosa Ma con i capperi e le acciughe com'è? No, 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 con i capperi e con le acciughe, i capperi non quelli del procione Pago io, però invece, ve lo dico già, beviamo barbaresco e paga lui Quello è buono E paga lui Oh, va bene Va bene Vi aspettiamo A Mondo V A Mondo V I summi A Mondo V La gente si chiede perché Va bene A Mondo V Sì, il 5 dicembre alle ore 19 in via Francesco Gallo 5 Chi era Francesco Gallo? L'architetto Famosissimo Amico di Burgess Va bene Se li intendevano Se le intendevano come con il Visconte Sì Poi prendevano freddo, tutti nudi Va bene, basta Ci vediamo A domani A domani